No chiamo la città, la città, la città! ...i petali per ricordare le numerose vittime dell'immigrazione. Noi sì, siamo studenti, ma siamo anche cittadini e pensiamo sia giusto denunciare ad alta voce i problemi del nostro paese. Infatti sono più di 20.000 vittime negli ultimi anni, quelle che ha visto il mar Mediterraneo. Ma non siamo qui solo per piangere i morti, siamo qui anche per richiedere il ritiro della legge Bossi Fini che riconosce il reato di clandestinità e per chiedere che venga istituito un canale umanitario così da poter garantire a queste persone il diritto d'asilo qui in Italia come in tutta Europa. E diciamo allo Stato italiano che è inutile indire il minuto di silenzio se poi non viene fatto nulla di concreto per risolvere questo problema. Inoltre vogliamo denunciare anche che quei pochi sopravvissuti che arrivano qua in Italia sono costretti a vivere nei CIE e nei CARA, che sono centri dove vengono, sono costretti a vivere in situazioni degradanti, dove ogni giorno vengono violati i loro diritti come persone. Chiediamo quindi il ritiro della legge Bossi Fini e l'istituzione di un canale umanitario per porre fine a questo scempio. Siamo tutti pronti!